La frazione di Pittolo è imbottigliata tra il traffico della strada gazzana e della statale 45. Prosegue da qui il tour di libertà e telelibertà nelle frazioni piacentine. È un dispiacere dirlo ma non è stato fatto nulla. Noi avevamo chiesto a gran voce per l'ennesima volta l'installazione delle telecamere per garantire più sicurezza ai residenti, ma nonostante le promesse la cosa è stata completamente disattesa. Avevamo chiesto delle modifiche alla viabilità, avevamo parlato della rotonda che era già stata autorizzata da ANAS sull'immissione sulla 45, ma non è stata fatta e non se ne hanno notizie. Avevamo chiesto le piste ciclabili che unissero Pittolo alle piste ciclabili esistenti sulla gazzana e sulla strada di La Verza, ma non si ha notizie. Anzi, abbiamo saputo che ci sono dei soldi in regione, ma non è ancora stato fatto un piano ciclabili presentato da Piacenza. Poi chiedevamo anche un po' più di cura, anche piccoli dettagli, le sfalcio delle piante, la potatura delle piante, le sfalcio dell'erba, la cura dei parchi giochi. Sono cose magari anche piccole che però dimostrano anche un po' di attenzione nei confronti della frazione più grossa di Piacenza. Tutto questo è stato disatteso. L'unica cosa che è stata fatta è che hanno rifatto le linee per terra, ma mi sembra un po' poco in un anno di mandato della nuova amministrazione comunale.